L'emergenza climatica rappresenta uno dei problemi principali del nostro secolo, le cui cause sono da cercare in un modello di sviluppo intensivo che parte da lontano. Un modello che fino a qualche anno fa non si è mai posto come problema il tema degli effetti dello sfruttamento delle risorse, sia sull'ambiente ma anche sulle persone. In questo senso si tratta di un problema complesso, che non presenta soluzioni semplici ed immediate. L'evidenza dei cambiamenti climatici, che ha portato peraltro anche il Consiglio Comunale di Milano ad approvare una dichiarazione per l'emergenza climatica nel maggio 2019, ed il loro crescente impatto sulla vita di tutti noi, ha reso necessaria l'attuazione di un processo di transizione ambientale. Con transizione si intende, intendiamo significare un processo di trasformazione grazie al quale un sistema passa da un regime di equilibrio ad un altro. Nel nostro caso, occorre passare da un sistema economico, politico e sociale orientato al breve termine e al tamponamento di problemi, ad un sistema che raggiunga una sostenibilità a lungo termine, che abbia un approccio integrato e traversale e che miri soprattutto alla tutela dell'ambiente, prevenendo e adattandosi alle sfide che si presentano. Nonostante la natura globalizzata delle sfide ambientali, è solo tramite l'azione locale che si deve dare avvio al processo di transizione ambientale. Questa necessità appare fondamentale alla luce del dato per cui si stima che nel 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà nelle città. Dovranno dunque essere proprio le città in prima linea ad avviare un cambiamento radicale. In questa ottica, nel luglio 2019, con il riassetto delle deleghe assessorili, il sindaco di Milano ha mantenuto su di sé la competenza sulla transizione ambientale. Conseguentemente, due mesi dopo, nel settembre 2019, è stata creata la nuova direzione transizione ambientale, suddivisa in tre aree, area, energia e clima, area, risorse idriche ed igiene ambientale e direzione città resiliente. L'istituzione della direzione transizione ambientale risulta essere un unicum nel panorama delle città italiane. Si tratta di una direzione trasversale caratterizzata da un elevato grado di operatività che dipende appunto direttamente dal sindaco. L'obiettivo della direzione è di transitare verso un modello di organizzazione urbana che renda Milano più sostenibile, resiliente ed in equilibrio ecologico e che allo stesso tempo sappia farsi carico delle conseguenze dirette ed indirette di cambiamenti climatici, rispondendo alle necessità dei cittadini in termini di equità, sicurezza, salute pubblica e benessere urbano. Questo è il motivo per cui parliamo di transizione ambientale, perché il modello di sviluppo a cui guardiamo intende migliorare in senso ampio l'ambiente, lo spazio, le opportunità di lavoro, l'inclusione sociale, il cibo e la qualità dell'aria. La visione che il Comune di Milano sta elaborando in relazione a tale processo si sviluppa a partire da alcune riflessioni sulla fase storica che stiamo vivendo, che segna una rinnovata consapevolezza del ruolo delle istituzioni nel governare la transizione verso una forma di sviluppo appunto più resiliente e sostenibile attraverso investimenti mirati e strutturali in grado di potenziare la qualità delle infrastrutture per la mobilità, per l'energia, per il verde e per l'acqua. In questa direzione, nel corso del suo primo anno di vita, la direzione ha elaborato diversi strumenti pratici per implementare la transizione ambientale. Tra questi, certamente, si colloca il piano aria-clima, un piano su scala urbana che servirà a guidare la riduzione dell'inquinamento atmosferico, contribuendo alla diminuzione degli effetti dei cambiamenti climatici e all'adattamento del territorio dell'aria milanese. All'interno del piano è costante il richiamo all'importanza nel rispetto dei principi di equità e giustizia, del diritto alla salute e di fare particolare attenzione all'inclusione sociale e alle realtà vulnerabili. Il piano aria-clima si colloca, peraltro, anche nell'ambito di alcuni impegni fondamentali che l'amministrazione si è impegnata a portare a termine, da qui ai prossimi decenni, anche relativamente a network internazionale di cui fa parte e come si forti. In particolare, il piano coniuga in sé tre differenti dimensioni relative alla lotta ai cambiamenti climatici, il tema della mitigazione, il tema dell'adattamento e il tema della qualità dell'aria. Il piano aria-clima vuole porsi in sinergia e dinamica collaborazione con piani e strategie preesistenti in corso di formazione e o già definiti, di cui ricordiamo il piano di governo del territorio, il piano urbano della mobilità sostenibile, la strategia di resilienza e la food policy. Questi strumenti svolgeranno, da qui al 2050, un ruolo fondamentale nella creazione di una Milano sostenibile, vivibile, fresca, inclusiva, a passo lento, in cui i cittadini siano attivamente coinvolti nel miglioramento della città in ogni suo aspetto. Questo anche nella convinzione che ogni transizione, per essere efficace e portare risultati duraturi, debba essere condivisa e non debba lasciare indietro nessuna. Grazie e buon lavoro.